Il Chiosso del Bramante Il Chiosso del Bramante Il Chiosso del Bramante Il Chiostro è una costruzione di raffinata linearità e rigorosa eleganza che applica principi di armonia ed equilibrio in ogni elemento compositivo. Ho eretto il chiostro su uno schema quadrato sovrapponendo due ordini, un ampio portico a quattro archi per ogni lato con pilastri in stile ionico dotati di capitello e paraste, coperture a volta e un loggiato superiore in stile composito con pilastri e colonne corinzi alternati che sostengono l'architrave a copertura piana. Con queste strutture di straordinaria bellezza ho cercato di costruire un gioco di luci e ombre con il fine di creare un'atmosfera piacevole. Questo vorrei che fosse messo in risalto e non le opere di altri artisti che vengono esposte qui. Ovviamente non è una critica agli altri artisti, sono stato artista anch'io, ma mentirei se dicessi che non provo un minimo di fastidio al sapere che la gente viene qui non per ammirare la mia opera, in primis, ma altri artisti. Cioè, lei come ci riamarebbe se per un suo lavoro vengono elogiati dei suoi compagni? Sicuramente non le farebbe piacere, ecco. Cosa pensa dei nostri contemporanei artisti moderni? Mi scusi, cosa si intende per artisti moderni? Beh, dopo che nel Cinquecento ci fu un ritorno al classicismo, molti artisti si sono avventurati nel cercare l'arte nei luoghi più improbabili, al di fuori degli schemi di bellezza, che hanno caratterizzato l'arte fino alla seconda metà del 1800. L'arte moderna denota uno stile di un periodo nel quale gli artisti sperimentano nuove forme creative ispirate dalla natura, alternando periodi più realisti a periodi più espressionisti, fino all'astrazione. Per esempio, cosa ne pensa di quest'ultima mostra sull'artista Banksy? Beh, è davvero particolare e molto distante da quella che è la mia concezione di arte. Ma devo dire che mi ha colpito. Ai miei tempi l'arte era pura bellezza e il messaggio che doveva passare era sempre inerente a un racconto. Lui invece esplica e rende visibile il suo disagio nel doversi conformare ad un mondo contrario a se stesso. È come se si facesse portavoce di una morale, o meglio la sua morale. È come se l'arte, evolvendosi, sia passata da semplice racconto o favola a morale. È come vedere due parti complementari per me adesso. In alcune sue opere ho trovato il complemento dell'arte che conoscevo. Io la favola e lui la morale. Buonasera gentili ascoltatori, siamo qui in collegamento con il signor Bramante. Se mi permette inizierei con l'intervista e vorrei chiederle subito perché gli fu commissionato proprio a lei il tempietto di San Pietro e Monitorio. Prego. Buonasera a tutti. Felice di rispondere alla tua domanda. Perché mi fu commissionato il tempietto di San Pietro? Beh, dopo la morte di Visconti e la caduta di Ludovico il Moro fui nominato ingegnere ducale dello Stato di Milano e decisi così di trasferirmi a Roma dove mi furono affidate importanti commissioni, tra cui il tempietto di San Pietro e Montorio per volere del re di Spagna, poiché il complesso monastico apparteneva appunto ad una congregazione spagnola. L'eccezionalità di questa realizzazione mi fu riconosciuta sin da subito. Infatti sono stato citato dai miei contemporanei nei loro testi e che ringrazio di avermi accostato a grandi architetture del passato. Detto questo, ci puoi spiegare brevemente qual era il suo progetto originario e quali sono le caratteristiche architettoniche? Rispondendo alla tua domanda, secondo i progetti iniziali il tempietto avrebbe dovuto inserirsi al centro di un cortile circolare così da evidenziare la perfetta simmetria dell'impianto e sottolineare la centralità del tempio stesso e proiettare le sedici colonne in altre sedici fino a formare un portico circolare. La costruzione è soprastante una cripta, il cui centro indica esattamente il luogo dove venne piantata la Croce del Martirio, che poi è ritenuta l'asse ideale di tutta la costruzione. Cosa penso si aspettino da me? Beh, hanno reputato questa mia opera degna di figurare accanto a opere degli antichi, quindi spero vivamente che le sperimentazioni da me portate avanti in quest'opera saranno poi d'ispirazione per molti architetti successivi. Questo edificio si presenta come una piccola costruzione a pianta circolare posta al centro di uno dei cortili del convento di San Pietro in Montorio a Roma, sul Collegio Anicolo, e diciamo che lo considero uno degli esempi più significativi dell'architettura rinascimentale. La sua funzione è appunto quella di celebrare il martirio di San Pietro, avvenuto proprio sul Collegio Anicolo. Questo tempietto monoptero ha un corpo cilindrico che costituisce la cella, la cui muratura è scapata da nicchie profonde e scandita da paraste come una proiezione delle colonne del peristilio. La costruzione infatti è circondata da un colonnato d'orico e sopraelevato su gradini, mentre sulle colonne corre una trabbiazione con un freggio decorato con triglifi e metope. Le colonne sono di granito grigio, mentre le altre membrature sono di travertino. L'interno della cella ha un diametro di circa 4,5 m, più un naos, ovvero uno spazio che è dedicato alle funzioni miturgiche, quindi un luogo puramente simbolico e commemorativo. Il pavimento è a tessere marmore poligrome, nello stile cosmatesco. Lo spazio è coperto con una cubola progettata in conglomerato cementizio e posta su di un tamburo ornate dalle sene a formare un ordine sovrapposto a quello delle colonne. Un'ulteriore domanda che le pongo è quale fosse il suo progetto e appunto come intendeva partire con i lavori. Il mio intento è quello di fondere due tipi di tempio che già il mio collega Leon Battista Alberti aveva indicati come esemplari, quello etrusco e quello rotondo, quale era il Pantheon. La nuova basilica era stata inizialmente concepita come un grande quadrato sormontato da una cupola che, sostenuta da grandi pilastri, si doveva liberare in alto, come a dare l'impressione di essere sospesa nello spazio. Dalla stessa cupola si dipartivano quattro bracci di croce greca che terminavano all'interno ad apsi di rotonda e all'esterno in linea retta. Da dove intendo partire con i lavori? Beh, per ora è prevista un'opera di demolizione da cui si innalzeranno i giganteschi piloni e i quattro archi che dovranno sostenere la cupola. Dopodiché avvieremo la parte iniziale del braccio di croce meridionale. Mentre in fase di progettazione è l'idea della costruzione del coro, ossia la parte determinante della chiesa contenente l'altare maggiore. Infine volevo chiederle se ritiene che questa sia la sua opera più importante o comunque diciamo una delle più significative della sua vita, ecco. Beh, sì, ritengo che questo nuovo progetto rivestirà un ruolo molto significativo poiché pone le basi per l'edificazione futura della nuova basilica di San Pietro. Grazie a tutti.